Ci siamo, eccoci, Gino Aprile, Marina Malfoglia, dalla paladanza Oasi Laguna Village del Laghetto Granieri di Nentuno, eccoci qui alla ventiduesima edizione del Ballando Ballando Dance Festival, ci siamo e dobbiamo anche andare veloci perché c'è un sole che picchia forte, i ragazzi protagonisti di questa ventiduesima edizione stanno aspettando per farsi vedere da voi, naturalmente noi le scuole le presentiamo all'inizio e poi andremo avanti solo con i numeri. Sarà una passerella molto più fluida proprio per stringere i tempi e andare velocissimi. Allora stiamo facendo la sauna, è un anno particolare, un caldo eccezionale, lo sappiamo, Lucifero, Caronte, tutti sti nomi strani e quindi io direi di cominciare subito e conosciamo i protagonisti. Allora iniziamo subito dalla danza classica mini individuale, ecco qua. Sharon Consoli, numero 73, Bagliadere, ci siamo. Cominciamo? Musica. Applauso e musica, dai. 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 R�ata, dai. K Sharon Consoli grazie Sharon lascia il posto appena naturalmente finiti gli splendidi saluti finali alla numero 113 il cui nome è Martina Morello eccola qua è arrivato il 113 tutti tranquilli e calmi musica grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti con il numero 113 terza esibizione di questo primo settore classico mini individuale un duo sono Armando Grosso e Marco Carrer con il numero 1 in gara tu sei Grosso? no nel senso questo è il numero di gara in bocca al lupo in bocca al lupo anche a loro applaudiamo tutti hanno bisogno di noi grazie a tutti grazie a tutti A presto. A presto. A presto. A presto. A presto.